I prezzi sono rimasti invariati, anzi su due opzioni siamo anche qualcosina a meno. Come avevamo detto prima c'è il family pack che non è legato a nessun settore, quindi il papà e la mamma ad esempio possono fare l'abbonamento in tribuna laterale e il figlio in curva. Si fa benissimo con degli sconti particolari sulla tariffa a prezzo pieno. La campagna parte da domani, siamo già pronti per farla partire, da domani partirà l'acquisto delle tessere. Chi ha l'abbonamento dell'anno scorso e vuole quel posto può fare la prelazione. È un'idea che abbiamo pensato con Luigi e con il direttore. Praticamente chi entro il 13 di luglio sottrascriverà l'abbonamento avrà una giornata insieme a tutto lo staff dell'Arezzo, quindi dal presidente al magazziniere, si starà un pomeriggio insieme, si mangerà, si berrà in ritiro. Quindi viverai una giornata di ritiro.